Grazie a tutti 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 circa 40 minuti per 1 ora 40 minuti per 1 ora è una distanza ma solo un dollar 100 shillings 100 shillings per 1 ora ha 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 che è un paolo che è un paolo cosa stia molto bella se sei che tutto è diventato se sei qui un paolo se sei che è più vero ma ora è un paolo è molto vero molto vero non potete vedere questa paolo è un paolo molto vero è molto vero No, no, no. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.